Cominciano a circolare i primi spoiler! Preparatevi ad un'importante informazione su Roger e nuovi dettagli sullo scontro tra Rufy e Kaido! Vediamo un po' cosa succederà! Lo commenti anche tu! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul nostro canale per il video dedicato agli spoiler del capitolo 1047 di One Piece! Prima di cominciare iscriviti al canale, attiva la campanella per non perdere i prossimi video! Stiamo quasi per raggiungere 60.000 iscritti ragazzi quindi se non siete iscritti vi invitiamo a farlo, grazie mille! E se sarete a Napoli Comicon questo sabato ragazzi ci si becca in fiera! Gli spoiler sono stati condivisi sul forum Worst Gen dall'utente Ethan Bobby, vediamo quindi di cosa si tratta! Il titolo del capitolo sarà il cielo della capitale! Nella cover a colori vedremo Mugiwara in spiaggia con Momonosuke in versione drago! Il capitolo ci mostrerà un flashback all'interno del quale vedremo il castello in fiamme di Oden! Vedremo infatti il momento in cui il piccolo Momonosuke ha deciso di viaggiare nel futuro! Rufy userà un attacco chiamato Gom Gom no Thunder! Kaido ci darà una nuova informazione su Roger! Confermerà il fatto che Gol di Roger non fosse un utilizzatore dei poteri del frutto del diavolo! Oltre a questo aggiungerà che le capacità, probabilmente riferendosi alle abilità che si acquisiscono mangiando i frutti del diavolo, non sono necessarie per riuscire a dominare il mondo! A quanto pare Orochi, mentre in fiamme, perderà la galmatolite e quindi riuscirà a trasformarsi! Vedremo Rufy creare un pugno enorme, addirittura più grande del castello di Onigashima e attaccare Kaido! Gli spoiler finiscono qui! La prossima settimana Weekly Shonen Jump sarà in pausa per via della Golden Week! Per questo motivo è probabile che il prossimo capitolo uscirà ufficialmente l'8 maggio sul Manga Plus! Nonostante questo non è esclusa la possibilità che gli spoiler cominceranno a circolare in anticipo! Parliamo quindi di quello che abbiamo scoperto nell'attesa di saperne qualcosa in più! Roger non era un utilizzatore dei poteri dei frutti, questo lo avevamo intuito, lo immaginavamo bene o male tutti perché Roger non ci è mai stato mostrato con qualche tipo di potere particolare derivante dai frutti e mai nessuno ne ha parlato! Kaido afferma che queste abilità speciali non sono necessarie per dominare il mondo, questa è un'affermazione particolare! Dobbiamo capire cosa intende Kaido per dominare il mondo! Come si domina il mondo? Diventando magari il più forte di tutti? Oppure scoprendo quello che il resto del mondo non sa? E' possibile diventare il più forte di tutti senza aver mangiato nessun frutto del diavolo? Forse si ragazzi, probabilmente è possibile! Basti pensare ad alcuni membri dei Mugiwara che non hanno mangiato nessun frutto e sono ugualmente forti! Ma questo per fare un esempio più vicino, se vogliamo possiamo pensare anche a Garp, a Shanks e allo stesso Roger! Ma per quanto riguarda il dominare Rufy dice la sua nel volume 52 del manga! Quando Rayleigh gli chiede se è pronta a dominare il mare del nuovo mondo, Rufy risponde ma che dominare? In tutto il mare non esiste nessuno che ami la libertà più del re dei pirati! Ancora una volta abbiamo il tema della libertà! Questa risposta di Rufy si sposa bene anche con il personaggio di Joy Boy! Roger come dice Kaido non poteva vantare i poteri dei frutti del diavolo, ma era un uomo libero e forse è stato proprio questo a permettergli di arrivare fin dove è arrivato! E con questo è tutto in attesa di nuove informazioni vi salutiamo e vi invitiamo ragazzi a partecipare alla live di stasera per discutere insieme dei nuovi sviluppi, dei nuovi spoiler, di tutto ciò che accadrà nelle prossime ore! Saremo quindi live a partire dalle 21, vi aspettiamo! Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video su One Piece! Alla prossima! Alla prossima ragazzi!